Ad un certo punto della sua vita Muhammad Ali si ritrova con il Parkinson e altri problemi Il Parkinson non gli permette più di muoversi agilmente come prima E allora una persona gli chiede ma la situazione in cui ti trovi adesso ti era trista? Ecco come risponde So, I don't know what he's in store You view this as your trial then? Yes How are you passing? Successo You think about your own death much? Five times a day when I pray See this life is short This life is a preparation for the eternal life I might die tomorrow, I might die next week I don't know what I'm doing It's not good